Dini, il secondo posto è stato il primo podium in OKJ Categorie, dopo alcune raccoglie in OKJ Categorie l'anno scorso. Diciamoci la tua raccoglie e la tua battaglia con Cristian. Sì, al principio ero un po' nervoso, ero in posizione 1 per alcuni lapsi, ma poi ho scoperto. Alla prossima ho scoperto, ma fortunatamente ho scoperto. Alla prossima iniziamo a combattere tra me e ho scoperto con Cristian e me, per il resto. Per il resto, Cristian era molto veloce, non potevo capire. Stavamo alla stessa velocità e siamo in secondo posto. Alla prossima è stato il miglior weekend di questa settimana, perché mi ricordo che nelle prime raccoglie ero una buona qualità, ma una buona recuperazione. Quindi per la prima volta è stato un weekend in cui tutte le cose sono buone. Sì, perché nelle prime prime raccoglie avevamo alcune parti in qualità e poi avevamo recuperato. ma ora in la raccoglie è stato incredibile. Grazie. Grazie.